Good morning Milano! Buongiorno! Lunedì 4 novembre, 7 e 11 minuti, voce ancora non del tutto ritornata a posto, ma cerchiamo di fare in modo di riuscire ad arrivare almeno sani e salvi, o almeno non completamente finiti entro le nove, anche perché è solo l'inizio della settimana. E quindi un lunedì è un lunedì difficile, perché lo so che avete fatto di tutto e di più questo weekend, questo weekend lungo che lascia sicuramente tanti strascichi, ma che non è un Blue Monday oggi, non può essere così, anzi, deve essere un lunedì dove abbiamo i ricordi del weekend passato, i viaggi, Halloween, le serate con gli amici, il weekend pieno di zucche. Cosa avete fatto? Potete dircelo, 331-78-535-555. Il nostro numero di Whatsapp è sempre pronto, è disponibile a ricevere tutti i vostri messaggi, audio, video, foto, quello che volete, lo potete fare tranquillamente alla 331-78-535-555. Comunque oggi è lunedì, abbiamo tanti ospiti, veramente oggi giornata bella piena, abbiamo Berzi, poi avremo Filippo Poletti con il Buon Lavoro e ritorna anche il sommario della settimana di Senti Questa, quindi dalla vera viva voce di Ambrogio Curti potremo sentire che cosa ci racconta questa settimana in Senti Questa. Prima di tutto però non possiamo iniziare senza un po' di buona e bella musica e quindi scaldate i motori, scaldate la giornata, scaldate i cuori perché partiamo adesso con Aden Foyer Sunshine Prescription. Aden Foyer Sunshine Prescription è lui che apre le danze questa mattina qui su Crystal Radio, vi ricordo sempre 96.2 FM, Dub Plus in tutta la Lombardia e poi ci sono le applicazioni, ma ormai non è che non scappate, secondo me non è tanto il fatto che, ah sai così, se non avete l'autonomo è che non dovete scappare, dovete ascoltare Crystal Radio in ogni modo e in ogni occasione. Le applicazioni per iOS e Android e poi il sito internet anche crystalradio.it, quel famoso sito internet che vi dico sempre potete aprirvi tranquillamente appena entrati in ufficio, mettervi le cuffie, poi aprite Zoom per far finta di fare una call, ma invece vi iconizzate il sito e ci ascoltate tutta la mattina senza problemi. Perché vi ricordo sempre che io inizio qua alle 7, vi do appunto il calcio di inizio, la spintarella per iniziare al meglio la giornata, ma dopo di noi c'è tutta la programmazione di Crystal Radio che va avanti fino a sera. Quindi potete tranquillamente non fare nulla al lavoro e ascoltare Crystal Radio tutta la mattina. Vi piacciono questi bei consigli. Un saluto a tutti i capi ufficio, imprenditori che in questo momento stanno per chiamare qualcuno per farmi portare via. Comunque mi raccomando ascoltateci e condividete con noi la vostra giornata. 331-7853-555, numero che Alberto sa usare benissimo ogni mattina, infatti arriva puntuale il suo Whatsapp. Buongiorno Fabio, buongiorno redazione e buongiorno Cristallini. Torniamo alla normalità quotidiana in questa maratona che ci porterà verso le feste di fine anno. Siamo già proiettati. Alto che Marea, Kerry, noi abbiamo Alberto che già ci sta proiettando nel futuro delle prossime settimane e appunto nelle feste di fine anno che sono veramente dietro l'angolo. Finalmente adesso lo accetto, posso accettarlo, va bene, se volete. Ma già quando la settimana scorsa qualcuno mi ha detto, bene dai, adesso che siamo in periodo natalizio, era il 24 di ottobre, anche no. Invece, va bene dai, adesso una settimana in più, passato Halloween, novembre, passati i Santi, tutti quanti, insomma novembre dai, ci stiamo, ci stiamo. Comunque, noi abbiamo un po' di notizie da leggevi dai giornali, ma soprattutto vi do questa che mi fa ridere il fatto che diventi notizia, in un certo senso. Da Repubblica Milano, leggo, a Milano verranno fatte più multe a chi parcheggia tra gli alberi. Beh, è la notizia, capite? La notizia è che finalmente facciamo le multe a chi mette la macchina tra gli alberi, no? Linea dura contro la sosta selvaggia, nel mirino con un numero maggiore di controlli ha anche chi occupa abusivamente gli spazi riservati ai disabili. Quindi, sanzioni anche più alte, oltre che a più controlli. Non sapevo che già adesso, in realtà, si può arrivare a prendere 660 euro di multa se si parcheggia in un posto per disabili o in una corsia preferenziale o in una fermata dell'autobus. Si potrà arrivare per le auto fino a 990 euro e invece, appunto, per le due ruote e per le moto a 660 euro. Questo è quello che si è inserito all'ultimo momento, in realtà, diciamo, qualche settimana fa, su grande spinta di Palazzo Marino, del Comune di Milano, nel decreto legge, nella legge che passerà, appunto, adesso al Senato, al vaglio del Senato, il nuovo codice della strada, per intenderci, quello lì, proprio sì, perfetto. Ecco, Milano ha spinto molto, ha spinto per fare entrare queste norme, questi inasprimenti, anche delle sanzioni per questi due tipi di posteggi selvaggi, come li chiamiamo qui in città, e quindi sembrerebbe, appunto, che ringraziamo Milano. No, ma io posso dire una cosa, è giusto, cioè, nel senso, va bene, non parcheggi sotto gli alberi, in mezzo a lì, dove non serve, non parcheggi sulla corsia per disabili o preferenziale, quindi va bene, è giusto. Comunque, oggi è lunedì, lo sapete, ve lo ricordate, e a lunedì non posso far altro che dirvi buon lavoro, ma c'è qualcuno che è molto meglio di me, ve lo può dire, che chi è, chi è, chi è? Filippo Poletti, che vi augura tutti i lunedì un buon lavoro. Buon lavoro a tutti, la prima parola della settimana è coraggio, unito a orgoglio. Non ho mai venduto la verità e che ritenevo di dover ancora fare molto da solo. E poi un po' di orgoglio personale, chi vende non è più suo. Bella visione di Giorgio Armani lo stilista. A chi mi chiedeva una partecipazione nella Giorgio Armani rispondevo, no, grazie, ha spiegato, ce la faccio da solo. E tra i suggerimenti anche quello sulla longevità. Ascoltatelo, due momenti di ginnastica al giorno, uno quando mi sveglio e uno prima di coricarmi la sera. Viva, viva Armani. La seconda parola chiave della settimana è voglia di fare. Ciò che conta è la voglia di fare, di imparare, la capacità di affrontare nuove sfide. Per questa ragione hanno deciso di non prendere in considerazione le esperienze lavorative o i titoli accademici dei candidati, in particolare dei candidati over 50. È la scelta fatta da energia comune, azienda con sede nella provincia di Bari. Il focus della selezione è appunto sulla motivazione, sulla passione, sulla determinazione dei candidati. La terza e ultima parola chiave della settimana è prevenzione. La prevenzione dei tumori al seno si fa direttamente in azienda. È l'esempio di Barilla che a Pedrignano, nel quartier generale, alle porte di Parma, ha organizzato una serie di incontri con i medici del centro senologico dell'ospedale maggiore di Parma. Per le dipendenti, consulenze individuali e inoltre una campagna informativa sulla intranet aziendale. Diagnosi dunque precoce anche sul posto di lavoro. E allora, buon lavoro a tutti! E questa è Shakira con Soltera, qui a Good Morning Milano Crystal Radio. Arrivano i vostri Whatsapp, appunto lo sapevo che insomma il weekend è stato di quelli intensi e interessanti per tutti voi che ci state ascoltando. 331-78-535-55 il nostro numero di Whatsapp. Ci arriva un Whatsapp e dice Buongiorno a tutti e buongiorno Fabio da quella di Bergamo. Questo fine settimana, lungo, Halloween a parte, ho guidato fino a lì. In che senso? Da Bergamo a Milano. Che pare una cosa manale, ma in 35 anni di vita per me era la prima volta. Buon lunedì. Vedete, ma che bello quando possiamo condividere le vostre prime volte. Dopodiché 35 anni, non ero mai venuto in macchina a Milano, non c'erano mai occasioni. Devo dire che vedendo il luce verde, il traffico di questa mattina, forse capisco anche perché. Ovviamente, traffico intenso, sto leggendo da luce verde Milano, traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia nel tratto compreso dalla barriera di Milano-Est fino allo svincolo di Cormano in direzione Torino. Appunto, già da questa mattina, già dalle 6 e mezza è arrivato l'allarme, quindi c'è già coda. Quindi capisco anche perché non viene tanta voglia di tornarsene a Milano, di venire Milano in macchina da Bergamo. Ieri, oltretutto, avrei dovuto fare un ritorno da zona di Venezia verso Milano. A Vicenza ho detto no, basta. Ho mollato l'autostrada, sono uscito, sono andato verso Mantua, ho fatto delle cose... Tra l'altro è di posti bellissimi, sono di posti pazzeschi. Mi sono perso praticamente lì nella pianura, tanto sapevo che dovevo seguire il sole che era verso ovest, no? Quindi il solcalante invece del sollevante bastava seguirlo, insomma era abbastanza facile arrivare a Milano. Dopodiché ho preso la Brebemi, che per la prima volta ho visto con un po' di gente finalmente, insomma, finalmente forse viene utilizzata. Però, insomma, capisco che il traffico è intenso già da questo momento, anzi, anche sulla tangenziale nord e code a tratti causa traffico intenso nel tratto compreso tra lo svincolo di Nova Milanese e lo svincolo di Monza-Santa-Alessandro in direzione dell'annacciamento alla tangenziale est. Quando poi ci arrivate, là ci sono quelli della coda che vi ho detto prima, che vi battono il 5, che sono in senso contrario. Comunque questo è quello che si vede tutte le mattine, altra allerta meteo, Milano-Varese, la A8 Milano-Varese, allerta meteo ho detto, vuol dire traffico, scusate, all'allerta traffico rallentato causa traffico intenso sulla A8 Milano-Varese nel tratto compreso tra lo svincolo di Castellanza e l'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, quindi anche qua, insomma, niente, non si corre questa mattina, insomma, questo è quello che è. L'ultima, tangenziale ovest di Milano, coda tratti, caso traffico intenso, nel tratto compreso tra l'allacciamento da A4 Torino-Trieste, che sono quelli là che arrivano dall'altra parte, e il Viale Certosa e lo svincolo della S11C Padana Superiore e anche Molino-Dorino, quindi in direzione Milano-Napoli. Questa è la situazione intorno alla città, se andate sul sito di luce verde è tutta rossa praticamente, quindi trovate l'alternativa, il trasporto pubblico, dico sempre, che può essere una buona e valida alternativa. Adesso ci fermiamo un attimo, due canzoni, qualche consiglio per gli acquisti, poi torniamo qui perché incominciamo anche ad ascoltare altre canzoni e anche canzoni che ci verranno spiegate e magari finalmente capiremo anche un po' questa genzetta, almeno così ci dice la nostra B.A.Z., appena dopo il nostro, la nostra pausa, qui con noi in studio a Good Morning Milano. Andiamo avanti, 33178-53555. E questa era Loredana Bertè con Non sono una signora, chissà se invece Beasi si definisce una signora o una signorina, una ragazzina, una bimba, non lo so. Lo chiederemo a lei, ma non prima di ascoltare la sua strepitosa e interminabile sigla. E il sorriso c'è. La sua voce... Non si sa cosa, ci rendono cosa? Spagna di mistero. Canta con Beatrice, risplende il suo jingle. Canta con Beatrice, risplende il suo jingle. Poi non si sa cosa mangia o beve E succede di tutto Casino E Fabio ascolta è tempo di imparare Buongiorno Beasi Buongiorno a tutti quanti Allora come stai Beasi Visto che sei Gen Z Cos'hai fatto ad Halloween? Ho fatto una festa a tema Cioè non io A tema non Halloween Era organizzato No no Sarebbe stata una roba molto alternativa Non era propriamente temalo Era tema cartoni animati Non dell'orrore Cioè cartoni animati in generale Vario Ok tu ti sei vestita da? Rick di Rick e Morti Ho comprato una parrucca blu E com'è che non ho ancora visto foto? Io voglio vederla adesso Perché non si vedranno mai Beasi in versione Rick Di Rick e Morti giusto? Sì Che anche quello è molto Gen Z Sì è vero Perché sì Già la mia generazione È vero Io ti avrei detto Pollon Capito? Quella roba lì I puffi C'era un ragazzo vestito da puffo Non era avatar Era un puffo sicuro No no era puffo Lui si definiva puffo Ok ok No ma che insomma Sono quella roba lì Posso arrivare Ho occhi di gattoli Di Oscar Sì però è vero Sono troppo vintage Quelli Rick e Morti Mi viene in mente Mork e Mindy Che invece è un'altra roba No Eh vabbè Allora vi dico Andate a rivedervi questo momento La faccia di Beasi Quando ho detto Mork e Mindy Come dire Ma cos'è? Cioè vabbè Ti dico solo Robbie Williams Robin Williams Ah ma il cantante No Scusate se ho detto Una parolaccia No non Robbie Williams Robin Williams L'attore Mrs. Don't Fire Hai capito? No zero proprio Completamente nulla Vabbè Ecco Vabbè Allora Ma come si fa ad andare avanti così? Cioè come non sai chi è Robin Williams? Ma magari lo so L'attimo fuggente Ah Capitano mio capitano Ok E se ti dico Nano Nano No La mia mano Nano Nano No Non ci sono Ok Mindy Comunque Vabbè Allora Ci hai portato una canzone Oggi Che farò la stessa faccia Che hai fatto tu adesso La farò io Quando sentirò il nome Dell'artista Perché Si chiama Tyler the creator Tyler Tradotto Tyler il creatore Quindi quando Intanto mandate qualcuno Al creatore Non lo mandate da Tyler Cioè Forse va da Tyler adesso Chissà Vabbè Comunque È uno Sì È un artista americano Che ha fatto questa canzone Che ha fatto Ha fatto uscire questo nuovo album Di recente Si chiama Chromacopia L'album Completo Io ho scelto una canzone Che secondo me Era anche quella più Carina per la radio Che si chiama Balloon Balloon Ok Allora lui è Tyler the creator Uno che insomma Se la prende facile Sono il creatore Quindi pensate voi Quanto ego ha quest'uomo Adesso ci andiamo a ascoltare Appunto Balloon Dall'album Chromacopia Chromacopia Don't stop Dice Invece non l'abbiamo stoppata Alla fine Finisce Finisce di suo Oh bravo sto Tyler Fa tante voci anche Ho visto Ci piace Fa tante voci diverse Bravo È tipo ventriloquo Mi sa Allora no Il fatto di Tyler Che è particolare Che lui nel suo album Ha messo Dei featuring Molto pochi Ne ha messi Però Tutti insieme Questa canzone No D'accordo con Gli artisti Che hanno partecipato Non ha messo Come di solito si fa Il featuring Vedete Perché Non è che Beasilo Presa così per strada E dice No se non sai cosa fare Vi niente a raccontare Perché mi chiedevo proprio questo Io vedevo il titolo della canzone Ma non ho visto No di featuring Non li ho messi Che ingrato Nessuna canzone E invece no Era tutto No 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 Nel senso Non l'ha fatto a discapito Degli altri artisti L'ha fatto E cosa dobbiamo sapere Quindi di questo Tyler the creator E perché questa mattina Ci siamo ascoltati Balloon Allora Tyler si chiama The creator Perché lui Gioca molto sul fatto Che la musica È un Un mezzo espressivo Potentissimo Infatti Il The creator È perché lui Con la musica Si sente di poter creare Anche proprio Varie situazioni Dimensioni Emozioni È come se fosse La sua dimensione In cui lui si sente Più a suo agio Si sente di dare Il suo meglio Quindi Il suo metaverso Esatto Come se fosse un po' Il suo metaverso E questa canzone È stata scelta Da me Medesima Perché in questa canzone Lui parla appunto Del suo talento Di quanto lui Si senta fortunato Ad avere un certo talento E di quanto lui Anche a volte Si senta penalizzato Ad avere Una certa dedizione In quello che fa Perché a volte Appunto Ti devi togliere Dei Cioè non puoi toglierti Degli sfizi Che vorresti Toglierti Se sei impegnato Nel lavoro O nel fare Determinate cose E In questa canzone Lui fa una critica Un po' Alla società Soprattutto musicale Ma in generale In cui lui vive Dove appunto C'è uno Stereotipo Di persona Ad esempio Lui a un certo punto Dice No BBLs I like A-Cups Che tradotto è Non voglio La BBL Cioè le ragazze Che hanno la BBL Voglio le ragazze Con il seno Di taglia piccola Che tu dici Perché mi stai dicendo Ah ho capito Adesso BBL L'acconimo cosa significa Big No no Non credo funzioni Quello BBL è Quell'operazione chirurgica Che ti toglie Grasso Da determinate parti Del corpo Per metterlo Poi nel seno Ok Ok E lui dice Non mi piacciono Preferisco E uno dice Perché me lo dico Informazione personale Cosa me lo dice In realtà è per dire Appunto che Per andare contro Diciamo alla società Soprattutto americana Ollywoodiana Dello spettacolo Lui preferisce Diciamo Le persone naturali Mi vede bene così come sei Esatto Sì sì Esatto Più terra terra Cioè Grasso Lascia lì dove è Nel caso E a me nelle tue tue Esattamente 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 Esatto E che questo è quello Che mi piace Di queste canzoni Ascoltando Magari anzi Uno come me Pensava appunto Solo a No Gli piacciono quelle maglie Cioè Non capisce Che invece c'è Un Confronte Una critica Anche appunto Con quello che è Una società Soprattutto quella appunto Dello spettacolo Soprattutto quella Los Angelinas Ollywoodiana Los Angelinas Giulia Soprattutto che appunto Dà un'immagine Espresso volentieri Ancora più distorta Di quella Che noi possiamo Solamente immaginare Con alcune Anche noi siamo Molto meglio Perché la nostra televisione Dà sempre Dei grandi risvolti Da questo punto di vista Però insomma Ecco Molto interessante Quindi The Creator Tyler The Creator Dobbiamo seguirlo quindi Sì Gravissimo Tutto bello il disco Sì 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 Lui ha fatto in modo Che su Spotify Tu non puoi scegliere L'ordine in cui sentire Le canzoni Ma le devi sentire In un determinato ordine Che lui ha scelto Perché tutte le canzoni Sono legate tra di loro Vedi Turnano i concept album Esatto Questa cosa qua Una volta era così Perché col vinile Quello dovevi fare Al massimo devi giusto Partire da metà Andare avanti Ma non di più E vedi adesso torna Quindi Una sorta di vinile Di blindato vinile digitale Vabbè ok Tyler The Creator Va bene Grazie Bersi Grazie a voi E adesso invece Ascludiamo qualcuno Che secondo me Anche questo unisce Generation Cross Perché insomma Banno i Justin Timberlake Appena uscita con una canzone nuova Voi Gen Z Ve lo ascoltate tranquillamente Giusto? Sì 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 Noi Non vi dico Abbiamo fidanzate e mogli Che sono impazzite E che neanche ci guardano La sera non tremo a casa Per colpa di Justin Timberlake Quindi insomma E anch'io forse Non guarderei nient'altro Se avesse Justin Timberlake di fianco Comunque quindi Justin Timberlake con Drone Alle 7.48 Qui su Crystal Radio Grazie Bea Ciao E questo era Justin Timberlake Alle 7.52 minuti Qui su Crystal Radio Vi leggo Un attimo Una bellissima notizia Che è arrivata Perché così sembra Adesso poi controlliamo bene Tutto quanto Ma appunto Finalmente è arrivata la notizia Sciopero del trasporto pubblico L'8 novembre Ci sono le fasce di garanzia Dai Ci sono le fasce Vedo gente Che è ben felice Di questa cosa Eh sì Ci sono le fasce di garanzia Come sempre 8.45 15 Lo sciopero E poi dalle 18 Fino a fine servizio Quindi servizio garantito Per le metropolitane Tutte Tranne la M4 Da San Cristoforo A San Babila È garantito Il servizio Quindi di M1 M2 M3 M5 Fino alle 8.45 Garanzia Tranne alcune linee Tipo il 2 La 9091 La 95 La 98 Che invece rientrano Anche quelle Nelle fasce di garanzia Oggi è lunedì Inizia la nuova settimana E oltre ad augurarvi Buon lavoro Abbiamo finalmente Un gradito ritorno Quello di Ambrogio Curti Che ci racconta Cosa questa settimana Andremo ad ascoltare Dentro a SentiQuesta E sia le 9.05 Dopo di noi C'è SentiQuesta E quindi Ambrogio ci racconta Tutto quello Che andremo a sentire Questa settimana In SentiQuesta A cura Come vi dicevo appunto Del bravissimo E preparatissimo Ambrogio Curti E quindi Dignate Ambrogio E la Donna Summer Con Hot Stuff Alle 8.15 Qui su Crystal Radio 96.2 FM Da Blast E poi l'applicazione Praio S Android Insomma lo sapete Non c'è modo Di scappare Dal Good Morning Milano Dal nostro buongiorno Anzi Grazie mille Al 33178 853 555 I Whatsapp Che stanno arrivando Grazie mille A Marilena Che ci scrive Good Morning Dalla Milano Che ci piace E mette una foto E aggiunge poi Con la scighiera Eh sì C'è un po' di nebbia In giro per la città Ma è quella Milano Che ci piace tanto A noi romantici Ci piace tanto E chissà se piace anche La scighiera Magari appoggiata Sulle acque Del Naviglio Perché dico questo? Perché abbiamo qui con noi Simone Lunghi Buongiorno 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 a tutti La scighiera È una figata Tutta Assoluta Sulle acque del Naviglio Ma dovunque La scighiera Dà magia Assolutamente Poi ti permette Un po' anche di Non capire bene Quello che succede Intorno a te Perché non avere Troppe certezze Nella vita Non va mai troppo bene Ti tiene su quel mistero E quell'attenzione Che è giusto avere E allora Simone Lunghi Che conosciamo benissimo Perché abbiamo Prima di tutto Diciamo Ennesimo Amborgino d'oro Che viene qua a trovarci Quindi insomma Ne avete avuti altri Guarda che abbiamo ospiti Di una certa caratura Molto dorati Devo dire Quindi sono ben contento Quando vengono a trovarci Amborgino d'oro Che anno era? Era il 21 21 Si fa sempre casino Perché lo danno Alla fine dell'anno Quindi ti sembra già l'altro Però secondo me era il 21 Non sei mai infatti Vincito anche Il Milano Storytelling Awards Forse un paio di volte Anche con La canottina di San Cristoforo Quello che molti Ricordano come Angelo dei Navigli Che poi insomma Si è preso così bene Che dai Navigli Si è andato a tutta la città Gli Angeli del Bello E abbiamo formato Gli Angeli del Bello Si ho Violentato la mia Non voglia di andare davanti A un notaio Davanti Poi quel commercialista E tutto E abbiamo fatto Un'organizzazione vera e propria Ci siamo registrati E a quel punto lì Ci siamo occupati Di difendere E diffondere il bello Non solo dei Navigli Ma di tutta Milano E quindi Presidente appunto Diciamo Parliamo di notai Il Presidente Degli Angeli del Bello Che ormai Cominciano ad essere davvero Ovunque in questa città Che bello Quando insomma Quando questi virus positivi Vanno in giro per la città Sì Abbiamo fatto proprio Un virus Abbiamo contaminato Piano piano Tutta la città L'idea iniziale È stata un po' Cambiata Perché inizialmente Io pensavo di fare Un'associazione Che sfruttava Un pochettino Le persone Che ho conosciuto Diventando famoso Tra virgolette Come Angelo dei Navigli E diceva Facciamo tre Appuntamenti In giro per la città Tre grosse adunate Uno con Aldo Uno con Giovanni Uno con Giacomo Vengono mille persone Una volta al Forlanini Una volta al Parco Nord Per dire E invece La cosa abbiamo capito Che era molto meglio Farla più puntuale Più periodica Con costanza E quindi abbiamo Cercato di Aiutare i milanesi Che volevano aiutare Milano Ecco Questa è più o meno L'idea E quindi Tanti Gli angioletti Appunto Che si sono aggiunti Tanti comitati Siamo intorno Alla ventina di comitati Sparsi in giro Per la città L'attività si fa Principalmente Nel fine settimana E quindi Ogni fine settimana Abbiamo magari Tre Sei Otto Abbiamo toccato Abbiamo toccato Il punto massimo Di dieci appuntamenti Sparsi in giro Nel weekend Perché praticamente Tutti i weekend Non c'è un weekend Dove gli angeli Non sono da qualche parte Più o meno È da 53 weekend Che ogni fine settimana Abbiamo attività in giro Infatti Infatti Noi ti vediamo qua Per festeggiare con te Appunto Questo 52 Passata già la settimana È passata Da quando ci sei Sì dal telefono La prima volta Quindi 53 settimane Senza dimenticarsi Di Milano Bravo 53 settimane Senza dimenticarsi In Milano Sì Esatto Beh insomma Un bel risultato Non dovresti mai pensare Tu pensavi fare una roba così Lasciarlo tre volte all'anno Io tendevo la pigrizia Inizialmente Pensavo di fare appunto Questi tre grandi appuntamenti Lavori una settimana Due settimane prima Per farlo Insomma Per lanciarlo E invece la cosa Ha preso una piega Leggermente diversa Però siamo molto contenti Abbiamo fatto partire Dei progetti Anche a Nottever Abbiamo delle Grandissime Soddisfazioni In generale Abbiamo le persone Che ci ringraziano Per quello che facciamo Poi abbiamo Anche capito Che Un tempo si diceva Che devi saper fare Perché insomma Se fai le cose fatte male Non va bene Saper Far fare E poi qual'era il terzo Sapere comunicare Anche Mi verrebbe La dire Ormai in questa E quindi aggiungere Una terza Adesso che quella Sapere E poi far sapere E poi far sapere È fondamentale far sapere Per uscire a creare Un pochettino di emulazione In maniera tale Che altre persone Possano venire A dare una mano O possano O possano anche Fondare Fondare una cosa Per i fatti propri Però combattendo Una Una battaglia Al tuo fianco Diciamo Bene Io sono molto Grosso di sapere Chi sono questi angeli Allora adesso Ci ascoltiamo una canzone Poi dopo mi dici Un po' Chi sono questi angeli Raccontami magari Di qualche angelo Così che Senza fare Ecco infatti Allora va bene Adesso ci ascoltiamo Dominic Freak Con Mona Lisa E poi appunto Qua con Simone Lunghi E gli angeli Del bello Dominic Freak Mona Lisa Le 8 e 23 minuti Su Crystal Radio Good Morning Milano Qui con Simone Lunghi E gli angeli Del bello Quasi 20 gruppi Anzi forse più di 20 gruppi In giro Per la città Ma chi sono Questi angeli? Beh allora Gli angeli del bello Per associarsi Chiaramente La gente Che vuole associarsi Non le diciamo di no Però per fare gli interventi Sono persone Che hanno a cuore Milano Persone che si ferono Persone che si fermano Sui social E poi ci vengono a raggiungere E Questo è un'attività Diciamo che Noi abbiamo Due motori Inizialmente Con i volontari Ci siamo presi cura Della città Ok E poi Piano piano Abbiamo scoperto Che si poteva Prendere cura Anche delle persone Le persone Qui ci prendiamo cura Sono essenzialmente Persone Che ci vengono Affilate dal tribunale All'interno Di due sigle Adesso ti parlo Per acronimi Purtroppo Che sono LPU Che sono i lavori Di pubblica utilità Che sono utili alla società E devono un po' Ridimersi Noi abbiamo preso Queste persone in carico Le mettiamo Incrociate Insieme a persone Volontarie E quindi Succede una cosa Bellissima Perché queste persone Sono contaminate Dall'entusiasmo Dei volontari Sono contaminate Dall'entusiasmo Dei passanti Perché spesso I passanti Si chiedono Soprattutto quando inizia A fare le attività Più o meno Tutte le settimane Una volta La persona Porta il cane A fare pipì E non si accorge La seconda volta Sta guardando il cellulare E non si accorge La terza volta Si accorge Ma è timido La quarta volta Ti dice Ma voi chi siete? Ah siamo volontari Che facciamo questa cosa qua Perché ci piace L'idea di Milano pulita Vogliamo Milano bella E quindi Spesso Sono pacche sulle spalle Sono sorrisi Ogni tanto È un caffè offerto E queste persone A volte C'è il professore universitario Che viene magari A fare il map Perché L'hanno fermato A un posto di blocco E ha bevuto Un mirto di troppo Oppure ci sono persone Che Hanno Delinquito Perché Non hanno Perché insomma Avevano le difficoltà Di inserimento Anche nella società E grazie A questa A questa cosa Abbiamo avuto Delle lettere Di genitori Che ci hanno Scritto Che hanno visto Il figlio trasformato Perché era Magari sulle soglie Dell'autoreclusione sociale No? Sindrome Chico Mori Diciamo E invece Grazie a noi Grazie a questi sorrisi Grazie al fatto Di vedere Che qualcuno Gli ha offerto il caffè Hanno iniziato Un po' A tirarsi fuori Abbiamo lettere Di Un milanese Che diceva Che lui Non andava In sarpi Da tanto tempo Che inizialmente Era partito Vedendo questa cosa Come un dovere E poi è diventato Un piacere Di venire A pulire E ha imparato Anche ad amare La via Paolo Sarpi Di adesso Che chiaramente È molto diversa Rispetto a quella Di un tempo Magari Il simbolo Non è più Il gusella Dove la mamma Lo poteva comprare Le scarpe E magari Il simbolo Adesso Sono i ravioli Cinesi E però Insomma È bello Riuscire A vivere A respirare Il mondo A Milano In Sarpi Si respira davvero Un'atmosfera Internazionale Beh lì è infatti Uno dei punti Più famosi In cui voi Appunto Ormai Operate Devo dire Che noi Abbiamo lì La responsabile Doris E il suo braccio Destro Pierre Che sono Straordinari Nella voglia Che hanno Loro Lo dicono sempre Per noi Non è un sacrificio Questa cosa qua Vogliono uscire Dalla ritorica Del sacrificio Però comunque Si vanno Un mazzo a capanna Perché sono lì Tutti Fine settimana A fare questa attività La cosa bella Poi È che Grazie È stato un po' difficile Riuscire a entrare Nella comunità cinese Però adesso Grazie a Francesco Wu Tra l'altro Lui è ambrogino d'oro Che ho conosciuto Proprio in occasione Dell'ambrogino Qualcosa si muove Diciamo Sì siamo riusciti Abbiamo tre Tre cinesi Che sono lì con noi Dai bene bene Insomma questo è quello Che possono fare Gli angeli del bello A Milano Torniamo fra pochissimo Subito qua Max Gazze Ti sembra normale Quello che ci chiediamo Anche quando vediamo Simone Lunghi Ma ti sembra normale Simone Lunghi Se mi sembra normale io No no Ce lo chiediamo noi Ce lo chiediamo Ce lo chiediamo noi Quando ti vediamo Però a te sembra Sì ti sembra tutto normale Quello che fai Quello che Allora sì A me sembra molto normale Sabato però Sono andato a fare strada Perché allora Tutti pensano che io sia Mega attivo Così In realtà io faccio solo Tutto quello che faccio Si vede praticamente Ok Non c'è nient'altro Non c'è assolutamente Nient'altro E quindi poi Rimango catatonico In casa Mezzo moribondo E non faccio mai Una roba normale Tipo mangiare il gelato Con degli amici No E invece sabato C'era una bella giornata Sono andato sul lago Di Monate E poi anche sul lago L'Aveno Tipo l'acqua ti chiama sempre C'è fatto da fare Sì E però insomma Ho mandato un messaggio Mi ha fatto un piccolo video Mi ha dato un messaggio A mia mamma E le ho anche detto Ti voglio bene E mia mamma Ha scritto Mi devo preoccupare E le ha detto In che senso Perché è vero Che non le dico mai Ti voglio bene Le mi ha detto No perché hai fatto Una cosa normale Come tutta Una giornata di relax Perché di solito Il mio relax Non lo vede nessuno Perché sono sul divano La cosa bella Che appunto Mi sembra un po' strano Quello che fa Simele Lunghi Però la cosa bella Che in tanti Per fortuna Lo seguono Appunto E questa è la cosa Che funziona Questo è il bello Di Milano Secondo me Perché A Milano C'è questa cosa Dove In molti Approfittando Forse del fatto Della Della folla Del concetto Del mimetismo In mezzo a tante persone In molti Hanno il coraggio Di essere se stessi Di essere diversi Siamo uniti Nelle nostre diversità Quindi non c'è Quello che succede In provincia Dove Magari C'è questa paura A sembrare Fuori dal coro Invece A Milano Si può fare Tranquillamente Quindi io Quando vado in giro In pattini Così C'è meno Quando ho cercato Magari tramite i social Sconosciuti Per fare delle cose Con quella Ne arrivano Abizzate Adesso abbiamo anche fatto Per esempio Vabbè Questo qui Era facile Però abbiamo fatto Un Halloween alternativo Sull'acqua E c'erano Cento persone Alla sera Sul naviglio Vestiti Chiaramente A dovere A modino Ma come vanno Le attività Sull'acqua Ricordiamo sempre Che tu hai Una visione Privilegiata Della città Perché la vedi Da un elemento Che magari Noi Sì Sappiamo che esiste Ma Non siamo mai stati In quell'elemento E abbiamo guardato La città Da quell'elemento Beh allora Dunque Anzitutto Questa cosa qua La visione Di Milano Dall'acqua È fantastica Perché Io i navigli Li vivo In due momenti Essenzialmente E la cosa più strana Vabbè Uno è la movida Che io però Vivo in maniera Un mio amico Artista Mi ha definito L'eremita della movida Perché io sono in mezzo Alla movida Faccio un casino pazzesco Ma sono comunque distaccato Perché sono da solo Magari C'è una canola in mezzo E faccio far casino Faccio battere le mani A gente Corretti Il fiorello dei navigli E E invece Poi vivo i navigli In una situazione Ancora più privilegiata Secondo me Che quando passo in canoa Al mattino E sul naviglio C'è una calma piatta E c'è una poesia Incredibile E c'è il silenzio Cioè vedere il naviglio Silenzioso Con la gente tranquilla Che fa colazione al bar E io in mezzo All'acqua Posso realmente sentire Il rumore Del cucchiaino Che stempera Lo zucchero e il caffè Nella tazzina È una cosa bellissima E ti fa capire Come Perdonami Ma questo lo devo dire Come Se tu Metti un po' All'angolo le macchine Perché sui navigli Non ci possono essere macchine Sul naviglio grande Le persone Prendono il loro spazio E c'è molta più umanità E questo è il motivo Per cui tra l'altro Tra il naviglio grande Il naviglio pavese C'è un abisso Il naviglio pavese Ha ancora le macchine E quindi Sicuramente È una situazione Più sofferente Dal punto di vista Dei locali Perché mi hai chiesto Scusa per dire questa cosa? No perché Si stava parlando Dei navigli Ma questa cosa qua L'ho voluta mettere dentro Perché spesso La gente Quando siamo lì Dentro all'acqua In canoa Nota che c'è Una differenza Tra il naviglio pavese E il naviglio grande E io gli dico Dico Eh sì guarda La differenza È che qua ci sono le auto E quindi Non hai i locali A destra e a sinistra C'è tutta un'altra cosa E poi vabbè Ce la faremo Vero poi a vedere Questo naviglio pavese Senza auto Ce la faremo Vero poi Ma proprio è difficile Impossibile È fatto male L'urbanistica Non ci aiuta Allora purtroppo Io credo che I social Siano una cosa Meravigliosa Ogni tanto Vabbè Anche se adesso Sta iniziando A essere un po' Dieci anni fa Eravamo in quattro Quando qualcuno diceva Milano non è Amsterdam Ma dire Guarda che Amsterdam È nata proprio perché Avevano troppe auto Prima non c'era neanche Una bicicletta Adesso con i social Io non so Se ci fossero stati i social Negli anni All'inizio degli anni 70 Non so se Amsterdam Sarebbe riuscita A compiere il suo Il suo percorso Perché sicuramente Diciamo I politici In questo momento Con Insomma Molto polarizzato A causa dei social E molto veloce Sempre a causa dei social I politici Io li vedo sempre come Due genitori divorziati E il popolo degli elettori Sono i bambini Figli di divorziati Quindi È molto difficile Che un politico Che vuole accaparrarsi Diciamo L'amore dei figli Dica qualcosa Di salutare Sì Di interessante Quindi Cosa fanno i genitori divorziati Oggi mangiamo patatine Domani pizza E poi l'hamburger E non c'è nessuno È difficile che uno Abbia coraggio di dire Senti Ho un bel minestrone Una pizza ciclabile O di barbabietole La pizza ciclabile All'inizio è vista Come la barbabietola Come i cavoletti Le costine Non quelle di maiale No No Magari E quindi Diventa difficile Poi dopo Quando la gente Inizia a vedere Tipo il naviglio Appunto Che c'è Un cambio di vita Io porto sempre L'esempio di Corso Como Cioè pensare a Corso Como E mi ricordo Quando appunto Fino anni 90 Credo sia Metà anni 90 Nasce l'idea Di fare Corso Como Pedonale Tutti sul piede di guerra Soprattutto Chi Lì aveva i locali Così Ma voi siete fuori di testa Adesso vorrei vedere Andare lì Scusate Ma pensate Facciamo passare le auto Ma sì Ma è come Sulla riapertura I navigli Tu devi Per vedere una cosa Devi sempre Ragionare al contrario Quando si parla Per i navigli Le persone contrarie Insomma Tutte queste cose qua Dici Guarda Facciamo una bella cosa Perché non chiudiamo questi Andiamo in Darsena Facciamo La cementata Il parcheggio Come avevano detto Cioè Milano Si è rialzata Grazie all'Expo E grazie alla Darsena Che è stata fatta Grazie all'Expo In carità Ancora un po' di musica Poi torniamo ancora qui Con Simone Anche perché Se magari vi siete incuriositi E volete capire Come fare anche voi A diventare angelici E quindi entrare anche voi Negli angeli Beh si può fare Non c'è bisogno di far domande Non bisogna essere santi Basta appunto Parlare E chiedere a Simone Ma ce lo spiega benissimo Adesso Dopo Con la pesce La malvagità serve al mondo intero Così dice Ma io invece Penso che sarebbero Gli angeli del naviglio Che potrebbero essere utili Al mondo intero Ma che assist Che ci ha fatto con la pesce Con questa cosa È fantastica Simone Lunghi Poi quanto Gli angeli del bello La gente ci ha ascoltato Magari si è interessata Come si può diventare Appunto angelici Non santi Ma angelici Allora la cosa migliore È andare sul sito E c'è il calendario Degli appuntamenti C'è la sezione E quindi possono tranquillamente Vedere i prossimi 90 giorni Aggiornati Con dove Dove ci saranno E quando ci saranno C'è un calendario Proprio Tipo Google Calendar Con le varie date Illuminate Diciamo dove c'è qualcosa Si clicca sulla data Dove si intende fare qualcosa E vengono fuori Gli appuntamenti a disposizione Sparsi Volendoci Si può anche registrare All'appuntamento Oppure si può seguire Noi settimanalmente Mettiamo sempre Quello che sta per succedere Nel fine settimana Assolutamente il giovedì venerdì Mettiamo questa comunicazione Sul social Che è un po' più immediata E poi volendo Possono anche tranquillamente Associarsi agli angeli del bello Nel momento in cui si associano Li facciamo anche Entrare nella chat Dove c'è Tutta la comunicazione Inerente Alle attività C'è anche il report Di quello che abbiamo fatto Insomma ci sono un po' di link Che passano Con i vari reel Che monti Oramai sono diventato Un esperto di montaggio video Saresti orgoglioso di me Se tu mi vedessi all'opera Passo le giornate A fare video Di quello che hanno fatto in giro Di quello che ho fatto io Di quello che facciamo in canoa Insomma tutte queste cose qua Prima abbiamo parlato Degli angeli di Puntorina In Sarpi Non è l'unico gruppo Sono tanti gruppi Se lo guardano un po' sul vostro calendario Così Ed effettivamente Lo so Già questo prossimo weekend Che c'è? C'è Darsena e Martesana Darsena e Martesana Ok Due navigli insieme Due navigli insieme Quello dopo ancora c'è Niguarda Cagnola Ad esempio Quindi tu veramente Siete sparsi in tutta la città Quello dopo ancora Il 23 Non c'è una marea Perché avete Darsena Washington Frattini Brunelleschi E Sant'Ambrogio Oltre a Sarpi Veramente comunque Siete ovunque Cioè 20 gruppi sparsi In tutta la città Anche Nelle zone più buone Tra l'altro In quello di Washington Verrà Trump Perché non verrà eletto E verrà a fare le pulizie In via Washington Perché gli piace il nome Infatti quando dici Beh vado comunque a Washington Adesso Trump Verrà in via Washington No è bene L'hai gufata però Alla povera Kamala In questo momento Cioè nel senso Non so se era un endorsement Io fossi in Kamala Toccherai ferro ovunque A loro toccano legno però In America toccano legno Perché sa questa cosa Bene Perché tu in America Ci sei anche vissuto Per un piccolo Sì 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 Ho vissuto in America Ho scoperto appunto Che dicevano Tocca legno Tocca legno Non tocca ferro Vedi che sa Comunque veramente Guardavo che ci sono Tutti Tutti Weekend Ricordiamo 53 finora Ininterrottamente Ininterrottamente sì La nostra attività Che vuol dire anche Vuol dire anche feste Sicuramente c'erano dei weekend Dove erano attaccate le feste C'erano dei weekend Anche questo in realtà Praticamente durante un ponte Non si fermano mai Quindi questo fine settimana Abbiamo tre appuntamenti Mi sembra avessimo Darsena Forlanini E Sarpi Sarpi Confermo I Sarpis Angels Non mancano mai Ho qui il calendario davanti Confermo che Il Presidente Lunghi Si ricorda bene Dove sono Tutti i vari angioletti In giro per la città Ricordiamo appunto Che c'è il sito Angeli Del bello milano Appunto Org Dove potete Avere tutte le informazioni Fammi dire una cosa Sono Tipo Non so 5.499 Follower miei Personali Simone Lunghi Seguite Voglio arrivare Cioè Almeno Non dico tanto Ma uno Ne manca uno Per scollinare Appunto Le altre attività Bicicletta Soup Così come vanno L'altra attività Bicicletta Ma Dunque Stiamo cercando Abbiamo lanciato L'idea Adesso vediamo Perché Pochi giorni fa C'è stato Un morto a Milano Non ciclista Ma Motociclista E siccome c'è Una contraposizione Forte Che dobbiamo cercare Di scongiurare Il più possibile Vorremmo Fare un'attività Di ricordo Di questa persona Tra l'altro Nell'incidente È stato comunque Coinvolto Se ho capito bene Anche un ciclista Però la macchina Poi ha travolto Le due persone Sulla moto Però sarebbe giusto L'idea di portare Un fiore Lì Come utenti deboli E cercare Di far capire Che Insomma Bisogna avere Più rispetto Delle regole Purtroppo Siamo in un momento In cui Soprattutto In Italia C'è Esistono le regole Però valgono Per gli altri Infatti Stamattina ho letto La notizia su Repubblica Che mi ha fatto sorridere Perché il titolo era A Milano Verranno fatte Più multe Che parcheggia Tra gli alberi Sì E mi ha detto E' una notizia Siamo arrivati A fare sì Che questa diventi Una notizia Cioè il fatto Che uno multi Giustamente Il fatto Che uno Non può parcheggiare Tra gli alberi Io Sì Perché le macchine In doppia fila Di cosa parliamo Ricorderò Quando hanno fatto Una pista ciclabile Non dirò In che via C'è Una gelateria Lì vicino E il gelatero Si lamenta Dice Ma adesso Le macchine Non possono più Fermarsi in seconda fila Io gli ho fatto notare Ma neanche prima Avrebbero potuto Fermarsi in doppia fila Però Infatti Il momento in cui Si posteggia in doppia fila Vuol dire che lì Puoi fare la ciclabile Io la vedo così Cioè Corso Vercelli C'è tutto lo spazio Per fare la ciclabile Giusto Perché se ci sono Tutte quelle macchine In doppia fila Io vorrei vedere Se una persona Facciamo una cosa Adesso cerchiamo Uno sponsor Per fare questa cosa Ok Diamo 100 euro Se una persona Riesce a darci una foto Di Corso Vercelli In un orario normale Non alle 6 del mattino Alle 3 del mattino Che non sia Il 15 agosto Senza auto In doppia fila Io penso che Teniamo i 100 euro Tranquillamente È una bella challenge Fatta effettivamente Aimena bella challenge Simone Grazie di essere Stato qui con noi Questa mattina Grazie a voi Amici di Crystal Radio E Crystal Radio Crystal Radio E amici di Good Morning Milano Ho sempre sognato Dire Good Morning Milano Pensi che l'ho fatto a fare Una trasmissione Chiamata così Io tutte le mattine Posso dirlo Ho il patentino Per poterlo dire Un saluto a tutti i bipedi Dai grazie Simone Davvero Torno a trovarci Quando arriveremo Alle altre 52 settimane Partiamo Doris Ok perfetto Voglio sentire anche Gli altri angeli Voglio conoscere Anche tutti gli altri angeli Tutti Va bene Partiamo il mitico Vicepresidente De Micco Che è la vera anima Un uomo incredibile Con un'energia pazzesca Perché Insomma Non è più Proprio un ragazzino Però Quando vado in giro Con Roberto Che insomma Di primavera ne ha Lui è quello più Ragazzino di me Nel senso che Lui vuole davvero Cambiare il mondo Ricordiamo Che noi stiamo puntando Se l'ho detto prima A microfoni spenti Noi abbiamo fatto richiesta Per avere 200 persone map Noi vogliamo impattare Milano Pensate voi Cosa stiamo aspettando Di vedere E questo Sarà sicuramente alto Quando si pensa di cambiare il mondo Lo si cambia appunto anche Un angolino Alla volta anche In una città Grazie mille Simone Lunghi E adesso andiamo Come di consueto Con la nostra sigla 8 e 54 minuti Di oggi lunedì 4 novembre Siamo arrivati alla fine Di questa puntata Di Good Morning Milano Se per caso Vi siete persi qualcosa Di questa puntata Non disperate Perché c'è un sito Goodmorning.milano.it Su cui potete trovare Tutto quanto Riproposto Ben confezionato I nostri ospiti I nostri rubriche Tutto quanto Lo trovate sul sito Oppure anche su Spotify Nel nostro video podcast E anche su Apple Music Insomma siamo davvero ovunque Anche sui social Su Instagram e Facebook E poi su YouTube Dove trovate tutte quante Le puntate E tutti quanti I nostri interventi Dei nostri ospiti Dopo di noi Lo sapete benissimo Oramai L'avete imparato a memoria Anche voi Ma è giusto così che sia Perché alle 9.05 Qui su Christian Radio Dopo il giornale radio C'è Senti questa Vi ascoltate Della gran bella musica Ma soprattutto Vi ascoltate Delle gran belle storie Raccontate da Ambrogio Curti Preparatissimo Prontissimo A darvi tutto quello Che è la storia Gli aneddoti E le curiosità Che girano intorno E dietro E dentro Il mondo della musica Le voci che avete sentito Questa mattina Sono state quelle di Filippo Poletti Di Beasi Di Simone Lunghi E qui Fabio Ranfi Al microfono In regia Come sempre La bravissima Gineva E alla produzione E oggi anche protagonista Della nostra puntata Appunto Beatrice Grazie mille A domani Qui alle 7 In diretta Con Good Morning Milano Ciao Ciao